Benvenuti a tutti, sono Daniela Corsi e sono qui per presentarvi le opere del maestro dittore Stefano Galli. Bellissime e umoristiche opere che raccontano azioni di guerra e di battaglia in una dimensione fantastica, dove gli orizzonti hanno una sede inaspettata che non è quasi mai orizzontale. Nelle opere di Stefano Galli ci si perde una sorta di mal di mare o d'aria. Ogni volta, prive di una base ferma e solida, ti tiene immobile lo spettatore. Ricca di movimento e di voci prospettici. Stefano Galli ci apre delle finestre nelle simulazioni belliche, dove il male è sconfitto a priori. Il movimento nell'apertura di Stefano Galli è un po' d'umore che si può percepire in silenzio, che è un uomo dell'azione e dei colori, che è in grado di coinvolgere tutti all'interno di un immaginario e di inventiva che con le prissime abilità i miei stessi pittori Galli ci propone. Ogni tela ha il potere di arruolarci, tutti in una guerra che ci diverte, perché complici di una erogia un'anima. La mostra del presente del rato degli erogati, la collezione privata, che farà una pulizia e una divertente opera dell'artista. Grazie a tutti dalla Galleria Ancorsiarte Torino. Grazie a tutti.